Siamo in piena emergenza sanitaria, anche a Spoltore, Sindaco, ci sono diversi positivi. Qual è la situazione ad oggi? La situazione è allarmante sotto il numero dei tantissimi cittadini positivi, che segue l'onda di tutta l'area metropolitana. Nella giornata di ieri mi è arrivato circa 100 nuovi cittadini positivi. Sono numeri che mai avevamo avuto, fortunatamente le condizioni sono oggettivamente buone, sono pochi i ricoverati e dicono che sostanzialmente sono anche non vaccinati questi. Adesso ci stiamo preparando per affrontare il rientro a scuola in sicurezza, faremo degli screening alle nostre scuole, alla nostra popolazione studentesca, di circa 1800 studenti. Se questi sono i trend c'è un rischio forte di questo, non ci aspettavamo numeri così importanti. Per adesso è stata chiusa la scuola per il 7, quindi ci sono ulteriori giorni per fare degli screening, però la situazione temo che possa cambiare di giorno in giorno. Noi siamo pronti, siamo sul campo a fare quello che di meglio e di buono c'è per i nostri cittadini.